a parte un altro match Yoshi's Story se returprende Mart che codardazzo vediamo ora come evolverà la partita combo goleardica wow una combo quasi di divertimento mi è parte di vedere anche una taunt si si era una taunt che sfigati è davvero antisportivo riderei se se retur morisse ora davvero antisportivo davvero antisportivo sai non lo vedo come antisportivismo lo vedo piuttosto come l'ego malato di una persona che intanto comunque si porta in vantaggio ragazzi da che mondo è mondo non c'è storia per gli avversari di Mart in questo stage soprattutto per gli avversari di un Mart come se retur Mart che ricordiamo si contende il titolo di migliore Mart d'Italia se ne è quello di Dax credo che ci sia poco da contendere perché quello di Dax è nettamente migliore comunque ok non so di Mart Dax conferma Dax conferma dice che è il migliore del mondo proprio ma io gli ricordo brevemente che qual è il miglior Ganondorf del mondo se non altro del bel paese no no del mondo proprio ti ricordi eh Dax Dax ha battuto Eddie però è andato purtroppo a perdere da Susie indito Ganon ovviamente oh situazione di parità perfetta wow 86% che ci sia un significato dietro oh wow Vagni ha vantaggio la gente la gente dice la gente dice bravo Vagni la gente dice fischia zio oh 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 wow 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 gli applausi si consumano no eh ma io non l'ho mai fatto dunque fai tutto quello che vuoi ricordo quando subì io una volta questa mossa ci rimasi malissimo ma da chi non ho da immaginare serie da Vagna proprio ah ci ha giocato si ci giocai due anni fa quando ancora ero agli albori non ero così bravo e bello comunque no ti assicuro che eri bello anche lì grazie vedo un Vagna un Vagna preciso un Vagna forse arrabbiato vedo un Vagna ma Vagna ha un vantaggio assurdo Vagna in questo momento uno stock di vantaggio però il Seretour è già sul 72% ricordiamoci che comunque si tratta di Seretour potrebbe fare due combo da zero a morte come potrebbe morire ora ah Vagna Seretour cade nel tranello di Vagna Vagna è sempre ragguato con i suoi tranelli già ricordiamo una wave dash indietro uno smash potrebbero costare tutto a Seretour ricordiamo lo stile o down tilt ma bella smash di Hyper Seretour Seretour è spacciato che controlla il movimento ascensionale comunque Vagna riporta anche questo match wow Vagna deve avercelo durissimo perché 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 Grazie.